In Iran, in Iran, che emozione ragazzi, che emozione, ho appena attraversato la frontiera e sono in Iran, un'emozione fortissima, alla Tocana un operatore mi ha fatto entrare nel suo ufficio e mi ha regalato una guida dell'Iran, bella e me la illustravo, mi piace vedere le città, le corte, gentilissimi, un'altra donna, sempre lì alla Tocana, mi ha chiesto, mi ha detto di apprezzare la cultura e la natura dell'Iran, i militari mi dicono, welcome to Iran, welcome to Iran, e poi la cosa più curiosa di uno che controllava il passaporto e guardava, non è appena arrivato, poi mi ha fatto togliere il cappello, mi guardava ancora, alla fine mi ha guardato un po' e mi ha fatto, io, Robinson, e io mi siamo scoppiati a ridere, io qui ci ho detto, no Robinson, no Robinson, e lui continuava a dire Robinson, Robinson.